Da ieri anche nella città dei templi è possibile acquistare un uovo di Pasqua speciale, è quello dell'AIL che torna con l'obiettivo di rendere le eucemie, linfome e melomi in mali sempre più guaribili. I volontari dell'AIL ad Agrigento sono presenti da ieri e lo saranno fino a domani a Porta di Ponte, in piazza Cavour ma anche al parco archeologico e alla Valle dei Templi. Volontari siamo tutti noi, tutti noi che acquistiamo un uovo o che ci impegniamo abbiamo il diritto e il dovere di dire ce la facciamo grazie a questi ricercatori. La ricerca siamo noi, noi sosteniamo in tutte le piazze d'Italia, l'associazione di Agrigento chiaramente lo fa qui in piazza Cavour al Viale della Vittoria domani domenica ma ricordiamo che ci sono tutti i volontari della nostra provincia in tutte e quante quindi i paesi, veniteci a trovare, sosteneteci perché la ricerca vince e vince sempre. Un piccolo gesto che può servire a tanto quello di acquistare un uovo? Sicuramente perché ricordiamo che purtroppo in Italia la ricerca non è sostenuta se non dai privati. In questi momenti di crisi purtroppo ci sono tanti ricercatori che stanno, tante menti che stanno andando via dall'Italia. Sosteniamo i ricercatori dell'Aile, il gruppo Ginema perché grazie a loro, grazie al trapianto di cellule staminali, grazie al trapianto di midollo si sono fatti grandi passi.